Prognosi riservata per un uomo di 70 anni che ieri a San Cataldo sarebbe rimasto gravemente ferito ad una gamba durante alcuni lavori con il moto zappa in campagna. Sarebbe scivolato in un dirupo ed avrebbe riportato ferite alquanto gravi. Dopo essere accorsi sul posto gli operatori del 118, una volta trasportato a Caltanissetta all'ospedale Sant'Elia, successivamente ad un primo intervento ortopedico sulla frattura riportata, sarebbe stato poi trasferito a Palermo. Grazie a tutti.